Musica Non si possono dare delle bambine di 8 anni a uomini di 40-50 anni per farle sposare Leggiamo piccola Rauan, si E' morta a 8 anni, dissanguata per ferite interne dopo la prima notte di nozze Si chiamava Rauan, la sposa bambina che pratico usuale Yemen era stata data in sposa per soldi dai genitori A un uomo che aveva 5 volte la sua età, quindi 40 Lo denunciano gli attivisti spiegando che la piccola è deceduta ad Arza, una tribale dello Yemen nord-occidentale Al confine con l'Arabia Saudita Gli stessi attivisti ora chiedono che sia fatta giustizia E che il marito e i familiari della vittima vengano arrestati e processati Questa è la storia di piccola Rauan Ma ogni giorno almeno 20-30 spose e bambine vengono date e muoiono Perché ovviamente questi rapporti sessuali, che non sono rapporti sessuali ma sono delle violenze Li uccideranno perché i tessuti sono fragilissimi Grazie a tutti